Messaggi d'amore. Dati dalla Divina Sapienza. Adunanima perché? Raggiungano il cuore. Di ogni uomo. Divina Sapienza, 26 maggio 2011. Sposa amata, mi supplichi di indebolire le forze del male e gli attacchi del nemico infernale. Mi chiedi questo, vedendo che la ribellione è cresciuta e le mie leggi non vengono rispettate né tenute in considerazione da molti, che osano dire quali leggi? Sono io stesso arbitro della mia vita e mi faccio le leggi da seguire. Sposa cara, non essere triste per ciò che accade, ma ascolta la mia parola e prendi gioia da me che sono il tuo Signore e ti amo. Ecco ciò che ti dico la forza del nemico, superbo e borioso, per mia volontà, andrà indebolendosi. Gli dirò molti no, perché si avvicina il tempo della mia luce fulgida. Le tenebre della notte saranno messe in fuga dal grande giorno luminoso si dissolveranno, per mia volontà. Ti dico che i tenebrosi se ne andranno con le tenebre, i luminosi resteranno nella luce, che diverrà sempre più forte. Il mondo nel presente è già diviso tra uomini di luce e uomini di tenebra, questo secondo le scelte. con le tenebre se ne andranno coloro che tenebre sono stati, con la luce saranno coloro che luce saranno stati per il mondo. Questo avverrà presto, perché io, io, Gesù, lo voglio. La luce non può stare con le tenebre dove c'è luce e non sono esse e dove restano esse non c'è la luce. Piccola mia, si avvicina il momento del trionfo per coloro che luce sono stati, ma si avvicina anche quello della piena sconfitta di coloro che tenebra hanno voluto essere. Peso ogni vivente alla mia bilancia, che è perfetta, chi risulta mancante dovrà subito riparare per non essere cacciato con i tenebrosi. Nessuno si faccia illusioni, nessuno che continua a fare pessime scelte creda di entrare nel mondo di luce, nel nuovo mondo, che io, io, Gesù, sto preparando la divisione sarà netta. Siccome il nemico infernale ha ben compreso che questo intendo fare, rende più forti i suoi fendenti per strapparmi le anime. Solo chi è in me, ben stretto a me, riuscirà a scansarli. Chi è nella fortezza sicura del mio cuore non potrà essere assalito, ma per chi è fuori e non si affretta a cambiare, per costui, sposa amata, non ci sarà scampo. Corra ognuno a me, si ripari nel mio cuore, che lo desidera. Sì, sposa cara, sì, sposa fedele, desidero per me ogni anima e la chiamo a vivere nella mia reggia. Il nemico perderà il suo potere sempre di più con coloro che corrono verso di me. Sposa amata, grandi cose farò per ogni uomo, che verso di me corre per entrare nella mia fortezza, manderò a lui incontro i miei angeli per aiutarlo nel volo. Gesù. Messaggio Divina Sapienza 27 maggio 2011 Ciò che non è avvenuto in tanti anni, secoli, millenni, può accadere in un solo giorno. Sposa amata, hai ben pensato, hai ben parlato perché il mio spirito è in te e ti ho voluto profeta ed annunciatrice delle mie meraviglie. Veramente ciò che non è avvenuto in secoli e millenni può avvenire in un solo giorno, perché tale è la mia logica, il mio pensiero. Infatti, non è lo stesso di quello umano né lo è la mia logica. Il pensiero mio è quello di Dio così la mia logica. Hai ben compreso, esaminando la storia umana? Hai visto come i fatti si sono svolti prima in un modo, secondo la libertà umana, che mai tolgo, poi, però, hanno avuto una svolta imprevista, questo, sposa cara, questo, sposa fedele, ti deve far capire che sono nelle mie mani le redini della storia. Pensa ad un carro con cavalli focosi, che lo portano di qua e di là secondo il terreno più facile, meno facile, secondo il tempo più favorevole e meno. Pensa al carro con una origa debole e poco capace e esso procede a volte più sicuro, a volte meno, fino al punto da rischiare di rovesciarsi. Tutto cambia, quando una guida sapiente ed abile prende in mano le redini e frena la furia dei cavalli focosi, che procedono calmi ed attenti, non a briglie sciolta, ma, ben guidati, giungono felicemente alla meta. Sposa mia, la storia umana è stata sempre guidata da me, Dio, in ogni momento, l'uomo ha fatto i suoi progetti, l'uomo ha operato liberamente, ma la sterzata finale è sempre stata la mia. Hai ben compreso, sposa cara, hai ben compreso che io, io, Gesù, sono il Signore della storia e la guido verso il trionfo del mio cuore? Mi dici Gesù, adorato Signore, ho compreso che il tuo amore ha operato, opera, ancora continuerà a farlo. Questo mi riempie il cuore di grande felicità ed emozione. Tutta la storia inizia da te e finisce in te. Sia benedetto il tuo nome, conosca presto il mondo e il tuo trionfo meraviglioso. Gesù.